Eccola qua, è una signora bellissima, eccola eccola, vedele. Allora, ciao numero 6. Ah non vuoi essere ripresa niente. Come ti chiami? Niente niente, tranquilla. Ah sei tu la sei. Ah ciao, come ti chiami? Ma si chiama Fulvia, da dove vieni Fulvia? Da 100. Oh da 100 di ferrari. Cosa fai a livello della vita? Niente, e via. Non ne ho trovato uno che la vuole ancora. E come vorresti il tuo uovo? C'hai una lista lunga? Comincia dai. Affascinante, buono, carino. Allora, affascinante, buono, carino, ricordo di poca, magari qua. Pira 18. Quanto? Quanto 6, scrivete, scrivete. Bene, guarda. Quello che hai di fronte è il ruolo. Sì. Ma io sono già pernottato. Allora, io sono già pernottato. Allora, io sono già pernottato. No, no, no. A uno che suona la chitarra. A stallone. A stallone. A banno giovane. A banno giovane. Quando era giovane. A stallone. Dicevano. No. No, quando era giovane si veste a stallone. Sui cappelli un po' lunghi. No. Bene, bene. Allora, guarda. Numero 6. Perfetto. Bene, bene. E a voi è un uomo. Ma è proprio un uomo o si è usato? Usato garantito, ragazzi. Benissimo. Bene, bene. Perfetto. Allora, ragazzi. Prima di passare al primo, vorrei capire se... Prima di passare al primo, no? Va bene?